La consistenza di un pane secco, fragrante e croccante, unita al sapore delicato e inconfondibile del prosecco. È il pan da vin, il nuovo pane da degustazione a base di prosecco di OCG, presentato dalla Scuola di Ristorazione DF di Valdobbiadene sabato 11 marzo in apertura dell'antica fiera di San Gregorio. È quando un'idea diventa un'occasione di lavoro per i ragazzi, perché poi questo connubio tra vino e un pane dedicato al vino è un'idea assolutamente originale, che caratterizza ancora più, che dà identità a questo territorio, ma che genererà, già ci sono buone notizie, nuovi posti di lavoro, nuove occasioni imprenditoriali. Ecco che la scuola è quella che noi vorremmo di più, fa, immagina, crea, costruisce nuove opportunità di lavoro. Un assaggio naturalmente lo ha già dato. Certo, è assaggiato il pan da vin con diversi prosecchi anche e si sposa perfettamente, perché è veramente una buona fragranza che si sposa in maniera ideale con questo nostro vino, che è parte del territorio. Il pan da vin nasce per dare la possibilità ai ragazzi di produrre, far vedere come si costruisce, si progetta un prodotto nuovo, lo abbiamo brevettato e abbiamo tra l'altro coinvolto le cantine di Valdobiana, alcune tra le più importanti, ci hanno aiutato proprio nel processo di identificazione del sapore, della forma, del packaging e quindi siamo assolutamente contenti di questa iniziativa che secondo noi avrà anche, tra l'altro, uno sviluppo commerciale assolutamente imprevisto. Giustamente lei ha parlato di cantine, come ha risposto il territorio? No, veramente bene. Noi abbiamo scelto di utilizzare ingredienti del territorio, quindi la farina del mulino Bertolo, l'olio della tappa olearia, poi importanti cantine come Adami, Valdocca, Colvetto Razze, Gemmin e altre, ci hanno sopportato proprio nell'identificazione di un tipo di pane che si abbini in modo perfetto, diciamo, con il gusto, il grande gusto elegante del Prosecco Superiore di Valdobiana. Il nuovo progetto mette in luce l'attività svolta dalla Scuola di Ristorazione di Effe, che a partire dal prossimo anno scolastico dovrebbe trasferire la propria sede nell'ex Filanda Piva di Via Erizzo. Sono partiti i lavori di riqualificazione di una parte dell'ex Filanda, il corpo principale dell'ex Filanda Piva. L'amministrazione comunale Valdobbiadene non può che essere orgogliosa di questo intervento per diversi motivi. Il primo perché andrà a insediarsi una scuola, la Scuola di Ristorazione di Effe, quindi vita in un'area di Valdobbiadene che in parte era degradata. Il secondo motivo perché c'è la riqualificazione di un patrimonio di archeologia industriale importante di Valdobbiadene. Il terzo motivo è molto semplice quanto importante. Un anno e mezzo fa abbiamo sviluppato il piano di assetto del territorio, il PAT, facendo molti questionari, soprattutto con le scuole, con temi e disegni di incontri con i bambini. Più di mille bambini coinvolti e devo dire che molti di questi evidenziavano a noi grandi che quell'area lì era brutta, faceva paura e quindi poter oggi dire che fra qualche mese quell'area sarà riqualificata e sarà destinata proprio ai ragazzi, questo per noi è una congiuntura importante che ci fa molto piacere, quindi aspettiamo con ansia il completamento dei lavori e che sia questo anche di stimolo per altre realtà private che possano voler sviluppare assieme agli enti pubblici, amministrazione comunale, regione, sviluppare delle iniziative nel territorio di Valdobbiadene. molto nominato da sempre ma soprattutto in questo ultimo periodo anche grazie alla candidatura al patrimonio dell'umanità UNESCO e questo può far rendere Valdobbiadene per quello che veramente è un laboratorio a cielo aperto per molte iniziative di carattere ambientale, paesaggistico, agricolo ma anche culturale e legato all'istruzione.